Eccoci qui con la protagonista, Nina. Chi è Nina nello spettacolo? Beh, la protagonista è una ragazza molto giovane, 16-17 anni, innamorata di Nando perdutamente. Purtroppo lui è un Don Giovanni e quindi chi ci rimette è lei, insomma. Abbiamo visto tra le scene d'amore molta passione, ma questa passione va anche oltre lo spettacolo? No, no. Siamo due attori e tutta finzione. Ok, grazie. Complimenti per il primo tempo e buon proseguimento. Grazie. Ciao.